Nei nostri studi il dottore Giovanni Marsala, oggi con lui vogliamo parlare di un tema importante, la disabilità. Ecco dottore, come viene vissuta la disabilità a Crotone? Forse Crotone è la città dove ci si sente ancora di più disabilità nella disabilità perché mancano certe strutture che creano l'impossibilità a queste persone di potersi muovere del diritto alla mobilità. Sicuramente il mio discorso è incentrato, fra l'altro, per quanto concerne proprio il discorso ferrovie, quello che stasera vorrei particolarmente enfatizzare. Ci tenevo a farlo perché se un disabile dalla nostra ferrovia, dalla stazione di Crotone, stiamo parlando fra l'altro di una città che è provincia, questo non dimentichiamola, quindi dobbiamo parlare anche in proporzione agli abitanti, che non sono pochi, considerando, ripeto, Crotone come città e tutto il suo interland, per non parlare anche della provincia, se un disabile deve partire dalla stazione di Crotone non ha assolutamente, e io l'ho sempre detto, alcun agio. Manca di molti vantaggi e almeno nella sofferenza dovrebbe viaggiare in maniera comoda. E mi riferisco soprattutto ai disabili veri e propri, che sono impossibilitati proprio alla deambulazione, molto spesso, per ovvi motivi, a prendere un treno. Addirittura per riuscire a prenotare un servizio speciale proprio per questi malati, per questi disabili, per questi soggetti, chiamiamoli così, che non hanno una facile deambulazione, bisogna prenotarsi alla Sala Blu di Reggio Calabria, la quale a sua volta provvederà poi a, diciamo così, a contattare i servizi predisposti, quindi imprese predisposte che fanno questi tipi di servizi, fra l'altro che non abbiamo neanche in città, che so che devono venire da fuori, per preparare il soggetto che deve partire. Hanno sicuramente in stazione qualche, diciamo così, strumento per loro, che so, magari saranno anche forniti di sedia a rotelle, giusto per fare un esempio, no? Però poi ci vuole, o quant'altro, qualsiasi altra strumentazione, ma poi ci vuole anche chi è l'addetto ai lavori. E non abbiamo, certo, in città, da fonte certa, so che devono venire, fra l'altro, anche da fuori per preparare tutto questo. Ora, io mi riferisco innanzitutto alla possibilità di poter fare per tutti questo tipo di servizio, perché mettiamo degli anziani, mettiamo della gente che non è pratica con le prenotazioni, pratica a farla via internet, pratica a rivolgersi a chi di dovere, perché non sono proprio informati, non c'è la dovuta informazione su questo. Quindi cerchiamo di facilitare le cose e venire incontro a queste persone, da un punto di vista organizzativo, ma facciamolo anche, da un punto di vista fattivo questo tipo di discorso. Mi veniva di pensare anche al fatto di come una volta i nostri disabili siano in stazione, come fanno, per esempio, ad andare da un binario all'altro, se consideriamo che appunto sono disabili, non hanno alcuna deambulazione, dovremmo creare degli ascensori anche nei sottopassaggi. Ora, sicuramente qualcuno penserà, abbiamo già tanti di quei problemi, la stazione è degradata o non è una stazione di primo livello, nonostante tutto, ma io invece dico che questi devono essere punti di partenza, devono essere punti importanti per valorizzare la nostra stazione, la nostra viabilità, la nostra città, perché non è solo, ripeto, Crotone, ma è anche il suo interland, è anche la provincia, e se la gente sa, se in giro si sa che alla stazione di Crotone abbiamo anche questi servizi, tante volte uno è anche incendivato a fare certe cose. Quindi guardiamolo come un punto di crescita. Mi veniva appunto di pensare anche al fatto che uno vuole i treni speciali, quando ancora qua ci rivolgiamo agli autobus, insomma. Chiaramente, il problema lo deve risolvere Trenitalia, però possiamo dire che c'è anche la parte politica che si interessa, non va ad insistere, perché quella palla tra Trenitalia e i politici è un rimbalzo tipo ping pong. Faccio l'esempio, anche se non c'entra niente, scompo fuori tema, dei cavalcavia. C'è Trenitalia che insiste sui politici per creare questi benetti cavalcavia ed eliminare i passaggi a livelli, quando poi i politici invece fanno orecchi da mercante, perché probabilmente non c'è un tornaconto per le amministrazioni che si trovano a gestire. La stessa cosa potrebbe essere anche per creare le strutture per i disabili, i treni, i marciapiedi, eccetera. Sì, riflettevo sull'esempio importante che hai fatto poco fa quando abbiamo parlato di cavalcavia, quando abbiamo parlato per eliminare i classici passaggi a livelli che soprattutto guardiamo nei paesi. Più di una volta, io giro spesso quelle che sono le ferrovie della nostra fascia ionica, e più di una volta mi è capitato di vedere anche dei passaggi a livelli, alcune volte malfunzionanti. Attenzione, non dimentichiamoci anche che in passato, mi pare a Cariati, una volta abbiamo avuto anche un problema, sono morte delle persone per questo, il rimbalzo della palla in questi casi, la ferrovia dello Stato, ai politici che non vogliono sentire fanno il gioco delle tre scimmie, io non mi vergogno di dirlo molto spesso, qui qualcuno deve darsi da fare, qui bisogna anche prendersi serie, responsabilità da una parte o dall'altra, perché c'è l'interesse dei cittadini, e ritornando al discorso di quello che dicevo prima, c'è di mezzo la salute ancora una volta dei cittadini, e la viabilità diventa un fatto importante. Volevo fra l'altro anche aggiungere una cosa, io in questo periodo mi sto adoperando molto per l'Associazione Ferrovie Ioni, che è il Comitato, più che si chiedo scusa, il Comitato Ferrovie Ioni che abbiamo creato in questo periodo, dove farei un invito un po' a tutti a partecipare, un po' a tutti a cercare di far parte di questo Comitato, perché stiamo cercando di dare un servizio, e quante più notizie, e tutti insieme poter mostrare quelle che sono le nostre realtà, quindi non solo a dire come stanno le cose, o diciamo così lamentarci dei problemi, ma utilizzare anche il Comitato come testimonianza di alcune cose che anche eventualmente vediamo, notiamo in giro. Ripeto, sempre nell'interesse dei cittadini. Il mio discorso stasera è legato alla disabilità, è legato alla salute, ma la mobilità comunque è importante per tutti alla fine, quindi diciamocelo chiaro. Più che mai con le nostre ferrovie. Più che mai con le nostre ferrovie. Io quindi faccio questo appello forte, perché, riassumendo, affinché i nostri malati abbiano più possibilità di poter spostarsi, soprattutto per i viaggi della speranza, per ogni tipologia di malato. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, per noi stessi, per noi cittadini. Concludo anche il mio discorso evidenziando il fatto che i nostri politici, ferrovie dello Stato, è un appello che faccio, un appello corale, detto in maniera serena. Ecco, prendete a cuore questa situazione, cercate di venire incontro e trovare una soluzione, perché almeno per i bisogni primari della salute, almeno per questo, non stiamo a chiedere nulla di che, ma le cose importanti, necessarie, almeno queste, diamole a questa fascia ionica così abbandonata a partire da Crotone. Dott. Massaro, prima di chiudere, brevemente, voi avete fatto, con delle associazioni, dei sit-in, quest'estate, mi pare siano stati due, in pieno caldo, con 40 gradi, davanti all'ospedale, per ottenere dei miglioramenti, degli ampliamenti, ai servizi che l'ospedale offre. Avete avuto dei riscontri? Cosa è cambiato? Non abbiamo avuto purtroppo dei riscontri, per ben due volte, come ha evidenziato, abbiamo fatto questi sit-in, con un gran caldo, dire che non è stata pubblicizzata la cosa, è stata pubblicizzata anche dai vari social, dai vari media, però non abbiamo avuto riscontri, vedere che eravamo, solo noi, la maggior parte della nostra associazione, e poi vedere che c'erano tante altre, piccole associazioni che devo ringraziare, ma quello che più mi preme è che c'era veramente una presenza di cittadini uguale a zero, zero nel vero senso della parola, quindi io invito, quando ci sono queste manifestazioni, quando parliamo di salute, che sono io a farlo, qualsiasi altra manifestazione che riguarda la salute, riguarda i problemi del nostro ospedale, riguarda i problemi della sanità, della nostra sanità, ad essere presenti ai cittadini, perché una pietra non fa nulla, ma tante pietre costruiscono un palazzo, scusate, ma mi sembra il caso che tutti insieme possiamo farci sentire, questo è quello che è il mio appello, lottiamo tutti insieme per queste cose.